dunque per quanto io mi spinga indietro negli anni con la memoria ricordo di aver sempre sofferto della noia ma bisogna intendersi su questa parola per molti la noia è il contrario del divertimento il divertimento è distrazione dimenticanza per me invece la noia non è il contrario del divertimento potrei dire anzi addirittura che per certi aspetti essa rassomiglia al divertimento in quanto appunto provoca distrazione e dimenticanza sia pure di un genere molto particolare la noia per me è propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà per adoperare una metafora la realtà quando mi annoio mi ha sempre fatto l'effetto sconcertante che fa una coperta troppo corta ad un dormiente in una notte d'inverno la tira sui piedi e ha freddo al petto la tira sul petto e ha freddo i piedi e così non riesce mai a prendere sonno veramente oppure altro paragone la mia noia rassomiglia all'interruzione frequente e misteriosa della corrente elettrica in una casa in un momento tutto è chiaro ed evidente qui sono le poltrone e i divani più in là gli armadi le console i quadri tendaggi i tappeti le finestre le porte un momento dopo non c'è più che buio e vuoto oppure terzo paragone la mia noia potrebbe essere definita una malattia degli oggetti consistente in un avvizzimento o perdita di vitalità quasi repentina come a vedere in pochi secondi per trasformazioni successive rapidissime un fiore passare dal boccio all'appassimento e alla polvere il sentimento della noia nasce in me da quello dell'assurdità di una realtà come ha detto insufficiente ossia incapace di persuadermi della propria effettiva esistenza per esempio può accadermi di guardare con una certa attenzione un bicchiere finché mi dico che questo bicchiere è un recipiente di cristallo o di metallo fabbricato per metterci un liquido e portarlo alle labbra senza che si spanda finché cioè sono in grado di rappresentarmi con convinzione il bicchiere mi sembrerà di avere con esso un rapporto qualsiasi sufficiente a farmi credere alla sua esistenza in linea subordinata anche alla mia ma fate che il bicchiere avvizzisca e perda la sua vitalità al modo che ho detto ossia che mi si palesi come qualche cosa di estraneo col quale non ho alcun rapporto cioè in una parola ne appaia come un oggetto assurdo e allora da questa assurdità scaturirà la noia la quale in fin conti è giunto il momento di dirlo non è che in comunicabilità e incapacità di uscirne ma questa noia a sua volta non mi farebbe soffrire tanto se non sapessi che pur non avendo rapporti con il bicchiere potrei forse averne cioè che il bicchiere esiste in qualche paradiso sconosciuto nel quale gli oggetti non cessano un solo istante di essere oggetti dunque la noia oltre alla incapacità di uscire da me stesso è la consapevolezza teorica che potrei forse uscirne grazie a non so quale miracolo ho detto che mi sono annoiato sempre aggiungo che soltanto in tempi abbastanza recenti sono riuscito a capire con sufficiente chiarezza che cosa sia realmente la noia durante l'infanzia e poi anche durante l'adolescenza e la prima giovinezza ho sofferto della noia senza spiegarmela come coloro che soffrono di continui mal di testa ma non si decidono mai a interrogare un medico soprattutto quando ero bambino la noia assumeva forme del tutto oscure a me stesso e agli altri che io ero incapace di spiegare e che gli altri nel caso mia madre attribuivano a disturbi della salute o altre simili cause un po come il malumore dei bambini più piccoli viene attribuito allo spuntare dei denti mi avveniva in quegli anni di cessare improvvisamente di giocare e di restare ora intero immobile come attonito sopraffatto in realtà dal malessere che mi ispirava a quello che ho chiamato l'avvizzimento degli oggetti ossia dall'oscura consapevolezza che tra me e le cose non ci fosse alcun rapporto se in quei momenti mia madre entrava nella stanza e vedendomi muto inerte e pallido per la sofferenza mi domandava che cosa avessi rispondevo invariabilmente mi annoio spiegando così con una parola di significato chiaro e angusto uno stato d'animo vasto e oscuro mia madre allora prendendo sul serio la mia affermazione si chinava ad abbracciarmi poi mi prometteva di portarmi al cinema quel pomeriggio stesso ossia mi proponeva un divertimento che come sapevo ormai benissimo non era il contrario della noia né il suo rimedio e io pur fingendo di accogliere con gioia la proposta non potevo fare a meno di provare quello stesso sentimento di noia che mia madre pretendeva fugare per le sue labbra che si posavano sulla mia fronte per le sue braccia che mi circondavano le spalle nonché per il cinema che lei mi faceva balenare come un miraggio davanti agli occhi anche con le sue labbra con le sue braccia con il cinema infatti io non avevo alcun rapporto quel momento ma come avrei potuto spiegare a mia madre che il sentimento di noia di cui soffrivo non poteva essere alleviato in alcun modo ho già notato che la noia consiste principalmente nell'incomunicabilità ora non potendo comunicare con mia madre dalla quale ero separato come da un qualsiasi altro oggetto in un certo modo ero costretto ad accettare il malinteso e a mentirle allora la mia pessima prova a scuola fu attribuita delle cosiddette debolezze ossia congenite incapacità in questa o quest'altra materia di insegnamento e io stesso accettavo questa spiegazione in mancanza di un'altra più valida adesso so di certo invece che i cattivi voti che mi fioccavano addosso ad ogni fine d'anno scolastico erano dovuti ad un solo motivo la noia in realtà io sentivo acutamente con il solito profondo malessere che non avevo alcun rapporto con tutta quell'immensa farragine di re ateniesi e di imperatori romani di fiumi dell'america meridionale e di montagne dell'asia di endecasillabi di dante e di esametri di virgilio di operazioni algebriche e di formule matematiche tutta questa sterminata quantità di nozioni non mi riguardava o mi soltanto per constatarne l'assurdità fondamentale ma come ho già detto non mi vantavo né con me stesso né con gli altri di questo mio sentimento puramente negativo mi dicevo anzi che non avrei dovuto provarlo e ne soffrivo già allora questa sofferenza mi ricordo mi ispirò il desiderio di definirla e di spiegarla ma ero un ragazzo con tutta la pedanteria e l'ambiziosità dei ragazzi il risultato così fu un progetto di storia universale secondo la noia di cui però scrissi soltanto le prime pagine la storia universale secondo la noia era basata sopra un'idea molto semplice non il progresso né l'evoluzione biologica né il fatto economico né alcun altro dei motivi che di solito si adducono da parte degli storici delle varie scuole era la molla della storia bensì la noia assai infervorato per questa magnifica scoperta presi le cose alla radice in principio dunque era la noia volgarmente chiamata caos il dio annoiandosi della noia creò la terra il cielo l'acqua gli animali le piante adamo ed eva i quali ultimi annoiandosi a loro volta in paradiso mangiarono il frutto proibito il dio si annoiò di loro e li cacciò dall'eden caino annoiato da bele lo uccise noè annoiandosi veramente un po troppo inventò il vino il dio di nuovo annoiato degli uomini distrusse il mondo con il diluvio ma questo a sua volta l'annoiò a tal punto che dio fece tornare il bel tempo e così via i grandi imperi egiziani babilonesi persiani greci e romani sorgevano dalla noia e crollavano nella noia la noia del paganesimo suscitava il cristianesimo la noia del cattolicesimo il protestantesimo la noia dell'europa faceva scoprire l'america la noia del feudalesimo provocava la rivoluzione francese e quella del capitalismo la rivoluzione russa tutte queste belle trovate furono annotate in una specie di specchietto quindi con grande zelo cominciai a scrivere la storia vera e propria non ricordo bene ma non credo di avere oltrepassato la descrizione molto particolarezzata della noia atroce di cui soffrivano ad amo ed eva nell'eden e come a causa appunto di questa noia commettessero il peccato mortale quindi annoiato a mia volta del progetto lo lasciai lì in realtà soffri di noia tra i 10 e i 20 anni forse in misura maggiore che in tutte le altre età della mia vita sono nato nel 1920 la mia adolescenza passò dunque sotto l'insegna nera del fascismo ossia di un regime politico che aveva retto a sistema l'incomunicabilità sia del dittatore con le masse come dei singoli cittadini fra di loro e con il dittatore la noia che è mancanza di rapporti con le cose durante tutto il fascismo era nell'aria stessa che si respirava a questa noia sociale bisogna aggiungere la noia dell'ottusa urgenza sessuale che come avviene a quell'età mi impediva di comunicare con quelle stesse donne con le quali credevo di sfogarla ma la noia mi salvò dalla guerra civile che poco dopo ebbe a devastare l'italia per due anni e precisamente in questo modo mi trovavo sotto le armi in una divisione di stanza a roma appena fu proclamato l'armistizio mi disfeci della divisa e tornai a casa quindi fu promulgato un bando con l'ingiunzione a tutti i militari di rientrare nei ranghi appena la morte mia madre con caratteristico seque alle autorità che in quel momento erano quelle fasciste tedesche mi consigliò di rimettermi la divisa e presentarmi al comando lei voleva la mia salvezza in realtà mi spingeva verso la deportazione e probabilmente la morte in un campo di concentramento nazista come avvenne a molti miei compagni d'armi fu la noia e soltanto la noia ossia l'impossibilità di stabilire un rapporto qualsiasi tra me e quel bando tra me e la divisa tra me e i fascisti la noia di cui avevo sofferto durante vent'anni e che adesso rendeva ai miei occhi del tutto inconsistente il grande impero del fascio e della croce uncinata che mi salvò nonostante le preghiere di mia madre mi rifugiai in campagna nella villa di un amico e lì trascorsi tutto il periodo della guerra civile dipingendo una maniera come un'altra di passare il tempo fu allora che diventai pittore ossia che sperai di poter ristabilire una volta per tutte il rapporto con la realtà per mezzo dell'espressione artistica anzi addirittura nel primo sollievo provocato dall'entusiasmo per la pittura quasi mi convinzi che la mia noia finora non era stata che la noia di un artista che ignorava di essere tale mi ingannavo ma per qualche tempo mi illusi di aver trovato il rimedio dan vi risposte con te soppure と soppure al and si Grazie a tutti